Dall'Angelo secondo Giovanni Sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva, e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparsi i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari, e non si sono dati ai poveri? Disse questo, non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro, e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre, avete me. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là, e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui, e credevano in Gesù. Padre carissimi, sei giorni prima della Pasqua, il Signore viene nella sua famiglia, nella sua famiglia di adozione, in questa famiglia così intima, dove si rifugiava, dove riposava. Petania, casa del povero. Casa di Cristo, che si è fatto povero per te e per me. Casa del nostro Signore Gesù Cristo, dello Sposo, che si è fatto povero, nudo, l'ultimo della terra, per rivestire della sua santità, della sua misericordia, del suo amore. La sposa, diventata povera, per aver dilapidato negli adulteri, nei peccati, nei tradimenti, la natura divina, la ricchezza più grande. Tu e Dio siamo questi poveri, per i quali Cristo si è fatto povero. E Gesù Cristo viene nella sua famiglia, nella sua comunità. Lazzaro, Marta e Maria sono immagini delle nostre comunità cristiane, dove Cristo viene a preparare la Pasqua, viene a rifugiarsi come un agnello, come l'agnello, che doveva essere condotto al macello e che doveva essere protetto. Dove essere difeso, custodito, allevato, per essere presentato nel sacrificio dei Vespri della Pasqua, perfetto, senza difetti. E viene da te, viene da me, viene attraverso le liturgie, viene attraverso la nostra comunità concreta, fatta di fratelli, fatta di storie, fatta di Marta, Maria e Lazzaro. Vedete, in questa scena del Vangelo appare la vita della nostra comunità, appare Lazzaro, immagini di tutti i fratelli, anche immagini tua, anche immagini mia, risuscitati da Gesù Cristo. Io sono la risurrezione e la vita. Credi tu questo? Dice il Signore a Marta, prima di andare a visitare la tomba e risuscitare il suo fratello Lazzaro. E Marta dice, sì, io credo, io credo che tu sei il Messia, che tu sei colui il quale viene a riscattare la mia vita. Lo credo, la fede adulta, fratelli. La fede adulta che vede la gloria di Dio. Questa malattia non è per la morte, ma perché attraverso di essa, attraverso di essa, si è rivelata in me la gloria di Dio. E' questa la fede adulta, verso la quale stiamo camminando nella Chiesa, vedere la gloria di Dio nella nostra croce. Nella croce che Cristo ha fatto Sua. Vedere la gloria di Dio nei nostri peccati, attraverso il suo perdono, che ha il potere di rigenerarci, di farci uscire dalle tombe. Lo abbiamo visto nei fratelli, lo vediamo nella nostra vita, lo vediamo nei nostri matrimoni, lo vediamo nelle relazioni che sembravano corrotte, che già emanavano cattivo odore. E questo è venuto, e ci ha chiamato fuori dalla tomba, e ha lasciato che siano sciolte le nostre bende, e ci ha dato da mangiare il suo corpo, il suo sangue. Ci hanno chiamato con la sua parola, per aiutarci a camminare nella vita nuova, la vita divina. Che la sua povertà, la sua povertà, il suo sacrificio, fa giungere a tutti noi gratuitamente. Marta, Maria e Lazzaro, avevano sperimentato questo. Marta, che aveva accolto Gesù come un ospite di riguardo, come accade a te e a me, ma poi impegnata nei tanti servizi, nel moralismo, nella legge, nello sforzo. Aveva dovuto ascoltare le parole del Signore, che la rimproverava amorevolmente, dicendole la verità. Quello che noi ascoltiamo attraverso le liturgie della Chiesa, la predicazione della Chiesa, tu ti preoccupi di troppe cose, ma una sola è quella buona e necessaria. Maria ha scelto, ha capito e ha scelto l'unica parte buona, che di conseguenza è la migliore. Passare, ascoltare la sua parola, passare dallo sforzo, passare dal legalismo, dal moralismo, dall'esigenza, alla gratuità, alla libertà dei figli di Dio, che vivono di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Da Marta a Maria, dall'atteggiamento di Marta, preoccupato, mondano, che accoglie con buono spirito il Signore, ma è ancora troppo mondana, alla contemplazione, che non significa non vivere fino in fondo la propria vita. Come invece Giuda cerca di insinuare. Giuda, immagine della menzogna, immagine del demonio, immagine della parola del demonio fatta carne nelle persone che vorrebbero ingannarci, nella cultura, nella ideologia, ma anche probabilmente e molte volte nelle persone che ci sono accanto, forse anche attraverso di te, questo Giuda che sta dentro di te, il lievito vecchio, il lievito mondano, il lievito acido, il lievito che inacidisce e inquina la nostra vita. Perché questo spreco? Perché questo spreco? Perché stare ai piedi di Gesù? Bisogna fare molte cose, bisogna impegnarsi, bisogna sporcarsi le mani, bisogna... Attento, 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 attento. Diceva questo, non perché gli importassero, gli importassero dei poveri, ma perché era ladro. Questo è il fondamento su cui basa la sua catechesi giornaliera il demonio. Era ladro. Ha rubato, voleva rubare la gloria di Dio ed è stato precipitato negli inferi. E ora fa guerra a quelli che portano la testimonianza di Gesù, a quelli che sono stati salvati dalla testimonianza, dal martirio del nostro Signore Gesù Cristo. E gli fa guerra così, insinuando questi sofismi nella tua comunità cristiana, nella relazione con tua moglie, nella relazione con tuo marito, nella relazione con i tuoi figli, con i tuoi genitori, con la fidanzata, nella tua solitudine, nella tua vecchiaia, nel tuo essere inubile, celibe, nella malattia, nel lavoro. Cos'è tutto questo spreco? Perché sprechi la tua vita per ciò che non vale? Questo dice il demonio. Vuoi sprecare questa occasione con la tua fidanzata? Ma perché? Guarda, lei ti vuole bene, io le voglio bene. Perché? Perché non posso unirmi a lei? Che differenza c'è prima, dopo matrimonio, queste stupidaggini della Chiesa? Perché vuoi sprecare la tua femminilità? Perché vuoi sprecare la tua dignità per servire e sottometterti a tuo marito? Ma siamo diventati matti. Perché vuoi sprecare la tua vita andando ancora appresso a questa moglie? Guarda, è un'arpia. Si è inacidita col tempo. Guarda, sempre pensando ai suoi problemi, alla menopausa, che è diventata cicciottella, e a te non ti guarda più. Guarda la segretaria, è molto meglio, no? Perché sprecare la tua vita? Perché sprecare questa occasione di fare un po' di soldi facili? Perché devi pagare tutte le tasse? Guarda, ci opprimono con queste tasse ingiuste. Eccetera, eccetera. Perché sprecare il tuo onore, umiliandoti davanti a quello che ti ha fatto del male, al nemico? Accogliendo, prendendo su di te i suoi peccati. Questo è sprecare il tuo tempo. Perché Dio vuole che sprechi la tua gioventù con questa malattia? Ribellati! Perché devi sprecare la tua vita obbedendo ai tuoi genitori? E dai tatuaggi, e dai piercing, e dai ribellione. Perché devi sprecare il tuo tempo studiando? Perché devi sprecare il tuo tempo, la tua vita, appresso alle menzogne dei preti, appresso a questi moralismi, eccetera, eccetera. Dietro tutto questo c'è l'incredulità. Dietro tutto questo c'è l'opera del demonio, che vuole strappare dal tuo cuore la fede, che vuole strappare dal tuo cuore la figliolanza, l'intimità con Dio. E questo è il combattimento di tutti i giorni. E viene a noi questa risposta, che soltanto nella comunità cristiana potremmo ascoltare, non certo dalla televisione, non certo dalla cultura, non certo dagli amici. Nella Chiesa, fratelli, possiamo ascoltare questa risposta. Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. Guardate che interessante, perché sembra una contraddizione. Ma come? L'ha versato tutto sui piedi di Gesù? I piedi hanno anche un'immagine, come dire, eufemistica. I piedi sono anche immagine della carne, spesso addirittura degli organi sessuali nella scrittura. Cioè, Maria si è donata completamente. Ha dato quanto di più caro a Gesù. Eppure, lo deve conservare per la sua sepoltura. A te, che sta dicendo il Signore? Ci sta dando una chiave importantissima per comprendere, questa settimana, per comprendere il mistero della Pasqua che andremo a celebrare. E la nostra vita, ogni giorno della nostra vita. E questo si dà, questo segreto è svelato, questa chiave ci è consegnata nella casa del povero, che sono le nostre comunità. Nella casa del povero, che si è fatto povero per noi. Nella casa dei poveri, dove viene il povero che si è fatto povero per noi. Allora, chi perde la vita, la conserverà per la vita eterna. Questa contraddizione, che è una delle parole fondamentali del Signore. chi vuol difendere la propria vita, è un ladro. È un ladro della vita che gli è stata donata, per essere donata. Non ha conosciuto la gratuità dell'amore di Dio. Questo è Giuda. Tutto razionale, molto intelligente. Aveva la borsa, quindi era quello che sapeva di economia. Rubava. Rubava con la sua intelligenza. Rubava con i suoi schemi, con i suoi criteri mondani. Rubava la dignità propria e la dignità degli altri. Rubava la natura divina. Cercava di rubare la natura divina. Attenti, fratelli. Perché invece, chi perde la propria vita, la ritroverà. Chi perde la propria vita, la conserverà per la vita eterna. Maria ha donato questo nardo prezioso. Il nardo che si ottiene dalle piante che crescono in altura, che crescono sulle montagne in alto. Il Carmelo in Israele. Il nardo è immagine del paradiso del cielo che si fa presente sulla terra. Questo è secondo Già la sapienza di Israele. Il Cantico dei Cantici parla del nardo. È venuto lo sposo nel suo giardino. È venuto lo sposo nella sua comunità. È venuto lo sposo nella casa del povero a Betania, in questa famiglia di intimi che sono le nostre comunità, che è la tua vita, che sono anche le nostre famiglie, certo. E la sposa, l'amata, spande il suo nardo prezioso. Preziosissimo. Preziosissimo. Che cosa hai tu di prezioso? Oggi. Che cosa hai di più prezioso? è la tua vita, la tua volontà, il tuo io, te stessa, così come sei. Questo è il nardo che lo sposo viene oggi a prendere, ma lo conserti per la sua sepoltura. cioè, Maria ha capito, ha intercettato, ha saputo discernere che davanti a lei c'era lo sposo che aveva già dato la sua vita per lei, che aveva dato la sua vita per quel fratello di nome Lazzaro, che aveva dato la sua vita mille volte per lei, che l'aveva perdonato ogni peccato, che l'aveva dato una nuova dignità, che l'aveva fatta donna, che l'aveva fatta santa, che l'aveva fatta meravigliosa, stupenda, che l'aveva fatta sua sposa, che si era fatto povero per lei e lei le dà tutto. Si fa povera, si spoglia di tutto, consegna la sua vita a Cristo, riconoscendo che Cristo sarebbe stato sepolto per lei. È la fede della Chiesa, è la fede della Chiesa nella quale ci appoggiamo per entrare in questa settimana e questa è la chiave, fratelli, entrare in questa profezia che si compie ogni giorno della nostra vita, questa profezia che ci annuncia la morte del nostro Signore Gesù Cristo per i nostri peccati e la sua risurrezione per la nostra giustificazione, per certificare che i nostri peccati non erano più forti, non sono più forti del suo amore e che il suo amore aveva avuto ragione della morte che è la conseguenza dei nostri peccati. Vedete, fratelli, c'è un solo modo per entrare in questa settimana santa, per entrare nell'intimità con Cristo, con la nostra comunità, guidati dalla Chiesa, condotti, amati, custoditi nell'intimità con Cristo dalla comunità cristiana, entrare con Lui nella morte, spargere, spandere il nostro profumo consegnare a Cristo la nostra totalità, il nostro io, la nostra personalità, i nostri desideri, la nostra volontà, consegnarci completamente, perché Lui è venuto prima, per primo, a consegnare se stesso nella nostra casa. Questo significa entrare con Lui nella morte per passare alla risurrezione, per passare da lievito vecchio, per passare dalla mentalità di Giuda, avara, avida, egoista, ladra, che usa le persone per se stesso, che usa le fidanzate, che non vuole sprecare nulla, ogni lasciata è persa, carpe diem, tutto, 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 per me, tutto per sanziare me stesso, è sempre più vuoto, per passare da questa menzogna che conduce al suicidio, che conduce, che ci conduce a impiccarci, quante volte ci siamo impiccati davanti ai fratelli, quante volte abbiamo gettato le ortiche, le relazioni, le occasioni per amare, per entrare con Cristo, nella nuova natura, per essere rivestiti nella veste bianca del battesimo, la veste immacolata, la veste della fede, della fede adulta, io so che tu sei la resurrezione e la vita, l'ho sperimentata e la sperimenterò in questa situazione nella quale mi trovo, oggi, all'alba di questa settimana santa, all'alba di questi giorni santi importantissimi, te la consegno la mia realtà, ti consegno la mia povertà, ti consegno le mie frustrazioni, ti consegno la mia volontà, ti consegno il mio desiderio di vincita, di scatto, di la mia lotta contro le ingiustizie, alzo bandiera bianca, spando il mio profumo, perché quello che io sono, gettato ai tuoi piedi, diventa un profumo meraviglioso, perché Cristo sa trasformare l'acido, il lievito vecchio, sa trasformare la malizia del nostro cuore in un profumo bellissimo, il suo stesso profumo, noi siamo il profumo di Cristo, dice San Paolo, in questa generazione, passando con lui dalla morte alla vita, passando con lui dall'atteggiamento, dall'attitudine, dal cuore di Giuda al cuore di Maria, alla contemplazione, che è opera, che è opera, che si trasforma in opera di vita eterna, chi dona tutto a Cristo, donerà tutto se stesso ai poveri, riconoscerà accanto a sé il marito come un povero che ha bisogno di ciò che sta saziando me, che sta saziando la moglie o che sta saziando il marito, riconoscere in tuo figlio, riconoscere in una persona che ti è accanto nel fratello un povero. Questo significa importare veramente dei poveri, avere a cuore i poveri, perché chi ha sperimentato di essere povero è stato saziato, nutrito dalla povertà di Cristo, da lui che si è fatto povero, per donarci la sua ricchezza, chi ha fatto questa esperienza, sì che gli importa dei poveri, sì che si consegna ai poveri. Chi non si dà a Cristo, chi pensa di sprecare la propria vita consegnandola a Cristo, non aiuterà un povero, filantropia, forse anche i massoni sono filantropi, accidenti, ma non è questo fratelli, non ti importa della salute eterna, della salvezza eterna di chi è accanto a te, forse gli darai un po' di soldi, forse farai delle strutture per farlo vivere meglio, fare vivere meglio i poveri, non lo so io, queste società pseudo perfette del nord Europa, ma che non, che generano morti viventi, pieni di suicidi, soli, perché non importa la salvezza vera, non importa la persona, non importa dei poveri, Maria, sprecando la propria vita per Cristo, donando la vita a Cristo, è immagine della Chiesa che si dona completamente a questa generazione, che intercetta in ogni uomo, anche in un magnate, anche in un un capitalista, anche in un riccone, un povero, come sapeva vedere madre Teresa di Calcutta, venendo proprio in Giappone, e dicendo qui non ci sono tanti poveri, quasi ci contano solo di là di una mano, ma qui c'è una povertà più grande, che è la non conoscenza dell'amore di Cristo, ecco, chi non conosce l'amore di Cristo nella sua vita, chi lo ha dimenticato, chi lo sta rifiutando, è il vero povero, a quello che sta sempre con te, quel povero che è sempre con te, sarà saziato dello stesso amore di Cristo che oggi è con te, e che oggi in questa settimana ti chiama a donarti a Lui, perché Lui si è donato a te, me, me, fisicamente, lo mi avete sempre, mi avete in questa liturgia, mi avete nel corpo che è la chiesa dove l'altro è Cristo, ma poi nella vita quotidiana ci saranno gli altri poveri, le persone che incontreremo nella nostra famiglia o dove sia, lì si nasconde Cristo, come San Francesco che è saputo riconoscere nell'ebroso Cristo, ma perché prima, prima aveva conosciuto in se stesso il lebroso, il povero, amato, salvato, colmato della ricchezza dell'amore di Dio, del Padre, da parte di Cristo, prima non poteva servire, prima gli faceva schifo il lebroso, dopo l'incontro con Cristo è cambiata tutta la sua vita, questa è la Pasqua, questo cambio di natura, questo cambio di natura che ci fa amore puro per i fratelli, amore puro anche per i nemici, anche un nemico e un povero che ha bisogno della tua vita, forse del tuo sangue, non lo sappiamo, accade, accade accanto a noi, a pochi chilometri da noi, a pochi chilometri da noi, fratelli sono trucidati, uccisi, scoppiano bombe, bene fratelli, questa è la nostra chiamata, a essere dilaniati, a essere mangiati da questa generazione, povera, perché non conosce Cristo, lasciati amare, consegna completamente la tua vita a Cristo e lui sazierà la tua povertà, sazierà la tua fame, ti ricolmerà del suo amore e ti trasformerà in un martire, in un testimone, in uno che davvero saprà consegnare se stesso agli altri. Questa è la Pasqua, coraggio, andiamo lì, siamo entrati in questa settimana per fare questo passaggio insieme al nostro Signore Gesù Cristo nella casa del povero, a Betania, nella nostra comunità cristiana. Buona settimana.